Annamo, dai cazzo, è appena finita la partita, legnago 1, gubbio 2, dai cazzo, godo come un porco, vittorie così danno proprio una fiducia immensa, stavolta vanno fatti i complimenti a pellegrini perché si è guadagnato il rigore e se l'è anche preso e se l'è anche segnato, quindi stavolta niente la di, anche i cambi azzeccatissimi direi, godo cazzo, daglie, daglie, porca troia. Anche se nel secondo tempo magari non abbiamo giocato come il primo, ma vabbè, l'importante come dico sempre è la vittoria, oggi finalmente abbiamo vinto, 30 punti se non sbaglio, quindi daglie, daglie, cazzo, allora. Gol di Hugo Gomez, Juanito, ottavo gol, se non sbaglio, in campionato, benissimo così, direi, primo tempo ho giocato ottimamente, forse avremmo dovuto essere un po' più cinici, ecco, questo forse è un po' un difetto del Gubbio che manchiamo forse delle cinicità a tutto porta, che potremmo fare molti molti più gol, secondo me, con tutte le occasioni che creiamo, poi loro nel secondo tempo hanno preso anche in palo, comunque l'importante oggi era assolutamente vincere, cazzo, allora. Taglie. Milioni in campo, sicuramente Pellegrini, Gomez, ci mette anche Malaccaric, ha fatto davvero un'ottima partita, soprattutto al primo tempo, ha provato a fare anche qualche tiro, magari sbilenco, ma vai. A me è piaciuto, ci mette anche Uccada, che secondo me ha un bel futuro in altre categorie, diciamo, a mio modesto vedere c'è una rosa non male, anzi, se facciamo quell'avvio scadente, forse potremmo lottare anche per qualcos'altro, comunque, vabbè. Quindi, oggi era importantissimo vincere contro avversari che lottono come noi per la salvezza, quindi, oggi era essenziale vincere, cacchio. Quindi, benissimo così, secondentissimo, soprattutto quando arrivano queste vittorie al 95esimo, al 94esimo, quello che era, all'ultimo secondo, fanno, ecco, il palo del... tra l'altro il gol loro è davvero bellissimo. Non so quante volte, se c'è il pro, quante volte lo segnerà, ma Bulevardi, mi pare, migliori in campo, sicuramente, del loro. E niente, so contentissimo così, migliori in campo, come detto, Pellegrini, Gomez, e ci metto anche Malaccari, ma, direi, un po' tutti, forse l'unico che non mi piace in granché, Signorini, che è un po' falloso, un po' nervoso, non mi piace granché come difensore, ma questo è un parere mio personale, magari, me sbaglio anche. Comunque, bene, così, ottima vittoria, pensiamo alla prossima partita, e sempre, 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 forza Gupia, appuntamento a stasera per la Roma, sperando di vincere anche Torino, anche se non sarà facile, perché Benevento, sì, è una squadra che viene su da Serie B, però, ha dimostrato che in Serie A c'è Sasta, quindi, testa al campo, intanto l'Inter ha vinto 3-0, letteralmente demolito il Milan, ho dato un occhio, ma, il mio, sono sempre puntato al Gupio. Bene, così, appuntamento a stasera, e sempre, 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 forza Gupio!